Anticipazione Tempesta d'Amore, mercoledì 26 giugno 2019 L'incidente e l'avvelenamento di Tobias Erlinger hanno sconvolto tutti. Non si parla d'altro. Il commissario Maser indaga sul caso, mettendo a suo quadro il Fustenhof. Tra i principali indiziati figurano Annabelle e Christophe, ma la verità non è poi così tanto palese come sembra. Denise collabora con Joshua e passa molto tempo insieme a lui. Purtroppo trova difficoltà a interagire, in quanto sa benissimo di non potergli essere solo una grande amica. Sente un'attrazione nei suoi riguardi mai provata prima. Grazie a tutti.